Il dialogo meno 29, ho perso il mio bagaglio, valisa, ciao, posso aiutarti, signore, b, sì, ho perso la mia valigia, a, quali sono la tua compagnia aerea e il numero del volo, b, american airlines, numero 475 il lunga f, a, dove hai preso il tuo primo volo, b, prendi il mio primo volo all'aeroporto il lunga fk, oggi a, alle 10 e un quarto, a, puoi mostrarmi il tuo passaporto e i biglietti di viaggio, b, eccoli, signore, qualcos'altro, a, no, va bene, signore, la tua valigia è all'ufficio dell'aeroporto il lunga fk, b, e cosa posso fare ora senza le mie cose, a, non devi preoccuparti di questo, si prega di compilare questo modulo per inviare i bagagli a casa vostra, b, ok, lo farò adesso, Eccolo, a, signore, prendi questa copia, la tua valigia arriverà a casa tra due giorni, b, grazie per il tuo aiuto, a, prego Grazie mille per ascoltare questa gravazione, grazie mille Grazie mille per ascoltare questa